Ciao creatore, oggi speciale 8.000 iscritti e quindi facciamo un video in compagnia di Stevie 1986 e in arte ASMR, Loffia ASMR e facciamo il sussurro, il nome dei miei fan, i miei iscritti, che magari se mi preparavo già prima il video di il bello della diretta, al momento siamo 8.125 followers, ok, ci siamo quasi, c'è un tanto che sta bevendo, e molto ASMR, questi gatti che si pestano, si è bloccato giustamente, allora, sussurro il nome dei miei fan, Aleandro, ciao Aleandro, 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 non so proprio chi doveva tagliare il pezzo del gatto che sclerava, come si legge questo? Malakai, Malaccai, 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 Bordman, Bordman, se vuoi avvicinati in più, poi questo l'abbiamo già detto, poi c'è Fraffo, ciao Fraffo, ciao Fraffo, enjoy ASMR, enjoy ASMR, doc privas, che aveva detto, vedi, non volevo metterti in difficoltà, ti scrivo come pronunciarlo, tutto doc privas, ho sbagliato, doc privas, che rebel, poi Serena, 1, 2, 3, 1, 4, poi abbiamo Desiree, Darme, Desiree, Darme, Maddalena, Dossi, ciao Maddalena, Dossi, Allora, e qua c'era, prova a dire, Charlotte, proprio Charlotte, Foxy, Charlotte, Foxy, Bene, adesso abbiamo, allora, anche voglio essere nominata, Blast, e si pronuncia Blaze, con la Z leggera, lol, non so spiegare, cos'è la Z leggera? La Z dieta, è Blaze, Blaze, come la Z leggera, Blaze, 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 Poi abbiamo, la Giulia, Kawaii, Kawaii, Giulia, è la Giulia, ah scusami, la Giulia, Kawaii, nel dubbio ha commentato da volte, poi abbiamo, Elisea De Santis, Elisea De Santis, Ehi, Sere, no, Ehi, punto, Sere, Ehi, punto, Sere, 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 Ah, chi è, eh, Serena, Anthony? Scusa, Serena Anthony? Eh, non ho letto il commento, poi abbiamo, Stella Micheluzzi, Stella Micheluzzi, bello, bello, Micheluzzi, Micheluzzi, Luca, Mosele, no, Mosele, Mosele, ci trollate però, Luca Mosele, e però poteva scriverlo lì, la Z, eh, poi abbiamo, Stefano G.S., Stefano G.S., Fra, Fra, Underscore, Zero, Tre, Fra, Underscore, Zero, Tre, che professioni tutto, Giuse, 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 Cata Chlu e Cata Chlu e Glui o Chloe, provati più veloce, tutto questo, no, Cata Chlui, Cata Chlui Tutto, non riesco, Cata Chlui Cata Chlui Cata Chlui Cata Chlui, Dore Cata Chlui, Cata Chlui, ростia Cata Chlui, Glui, Cata Chlui cata Chlui, Sia Pier, Captain Marvel 92 Returns Captain Marvel 92 Returns Poi abbiamo Michael Jackson Dalle oltretomba Ciao Michael Jackson Che onore Oddio ma io diamo Grazie tesoro Perché l'avevo nominato nell'altro Ho un fan proprio accadito Sì è mio fan Mi guarda dall'altretomba Corizzino Corizzino Ho venuto un po' speciale Poi questo che ho detto Che era Nick insieme vuoto Perché sai Nella matematica Ciao Nick insieme vuoto Però è stato triste Per questo Che insieme pieno Nella sua strada E ora c'è un Nick O Nick Cosa? No ma che ho fatto Sono imprevisti Jordan Jordan Chaske Chask Chask Cheesecake Ciao Jordan Jordan ti salutiamo Non dubbi Poi abbiamo Anna Rosis Ciao Anna Rosis Fede 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 Bonza Il Jack 87 Officiale Ciao Jack 87 Officiale The King Noob 89 The King Noob 89 E questo è Dalì O Dalì O Dalì O Dalì ASMR ASMR Non ho scritto Come la pronuncia Non ho Bull Gamer Bull Gamer Sweet Dreams ASMR Sweet Dreams ASMR Alessandra Girgenti Bello Alessandra Girgenti Bello Bocca di rosa Bocca di rosa Luna nera Che sembra La nostra luna nera Esatto Eccola qua La luna nera Loris Con falonieri Dopo Michael Jackson Anche con falonieri Ciao Loris Con falonieri Paola Forte Paola Forte Sì Eleonora Pinta Eleonora Pinta Pinta Eleonora Sipara Lana Burocco O Lara Ah Lara Scusa Perché non ci vedo tanto bene Lara Burocco Bellissimo Burocco Lara Burocco 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 è bello Sì Poi abbiamo E' Piri Piri 66 Piri 66 Lorraine Warren Lorraine Warren Bella immagino Sì è vero Che se non sbaglio Dove essere una pancchiera Ottimo Aurora 04 Sg Aurora 04 Sg 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 Vediamo provare Sg 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 Esci Sg 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 Ateni Sofia Ateni Non l'abbiamo già salutata Vabbè Lo stesso Non lo so Oricori Oricori ASMR Oricori Oricori Vero E che ca? In E A Non ci può essere Sembra una N N A Non lo sappiamo perché È greco È greco Quindi non sappiamo Si legge Abbiamo Little Fiamma Little Fiamma Che per niente Dove Mary Zanni Mary Zanni ASMR Mackie Però mi so che Io ho detto Il nome Andreana Andreana Bello Andreana Non è più Che ha scritto Tranquilli Sono straniera So che il mio Nome può sembrare Un straniero Manolo Ok Ok ma nessuno Andreana Andreana Ok B sound B sound O B punto sound O B trattino sound È un trattino Ma loro sto diventando cicla Fate colletta Per regalare degli occhiali A coda ASMR Sì Veramente Angie L'amo Angie L'ama Adesso mi viene dubbio Ogni cosa che leggo Dovevo fare una visita Oculistica 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 Alissa Elizabeth Alissa Elizabeth Non so se questa l'abbiamo già detto No Mi sa di sì Aurora Formisano Aurora Formisano Matteo Angelino Matteo Angelino Coco ASMR E questa? Porca roca Lo dimentico Void Antoin Non so dire Void Antoin Antoinette 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 Potrebbe essere Probabile Il Coco ASMR Coco ASMR Coco ASMR Il Coco Bellissimo Coco E beh ci sto Uno giurap Rap Uno giurap Uno giurap Giuseppe Giuseppe Fnaf 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 Elisea De Santis, bello, mi piace l'Eisea, P. Ottaviani, le super creative pasticcione A, puntini, puntini, le super creative pasticcione A, punto, punto, punto. Ma secondo te non ci sta, o si chiama proprio così? Forse si chiama così, non lo so. Ah, mi piacerebbe sentire il mio nome, chiamami Angelica. Angelica. Nathan Spalchiero. Nathan Spalchiero. Simo. Simo. Davide Canova. Davide Canova. Non c'è lo spazio, bisogna... È vero, Davide Canova. Francesca Karma. Francesca Karma, piace. Karma. Aurora Divi. Aurora Divi. Questo che mi ha detto, sì. È una I, secondo te? Sì. È Ioana Claudio G, punto. Ioana Claudio G, punto. Aurora Pink Love. Aurora Pink Love. Vittoria Coratti. Vittoria Coratti. È questo sì. Gigio Pasticcio. Gigio Pasticcio. Questo sì. Persona che adora i BTS. Persona che adora i BTS. Alba Scura. Alba Scura. Alessia Lombardi. Alessia Lombardi. Jackass. Jackass. Ma è... Carlotta Serenari. Carlotta Serenari. Giorgia Corsiglia. Giorgia Corsiglia. Black Flag. Hello. Black Flag. Mi piace. Da pirata. Sophie B... Bilius. Sophie Bilius. Cami Kawaii. Cami Kawaii. You Always Shine. You Always Shine. Lola Trattino Basso. Quanti trattini bassi? Quanti sono? Saranno tre. Tre. Lola Infiniti Trattini Bassi. Forse tre. Forse tre. E' il dubbio. Giulia Cerquedi. Giulia Cerquedi. Axan. 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 No. Non ce ne sono oggi. Vale Boss. Vale Boss. Alice Pirelli. Alice Pirelli. Lucrezia Torrini. Lucrezia Torrini. I Love Chocolate. I Love Chocolate. Axan. I Love Chocolate. I Love Chocolate. Perché tutta calma. Gaia Sword. Gaia Sword. Esatto. Ok. Quanti commenti. Elisa Scarponi. Elisa Scarponi. Leonardo Campagnolo. Leonardo Campagnolo. Mary. Mary. Sì, non Mary Mary. Mary Mary. Mary Mary. Silvia Racchia. Racchianti. Wow. Silvia Racchianti. Marco Bellini. Marco Bellini. Alessia Gallo. Alessia Gallo. Alessia Pitorra. Alessia Pitorra. Soledani. Soledani. Pena dei titani. Tintare. Dark Wolf. Spazio. Trattino basso. Zero. Quattro. Dark Wolf. Spazio. Underscore. Zero. Quattro. Underscore. Giusto. Underscore. Antonio Matt. Antonio Matt. L. L. Luiziana. E' Ianni. Luiziana. Ianni. Allora. Punto esclamativo rovescio. Vale. Punto esclamativo. Punto esclamativo rovescio. Vale. Punto esclamativo normale. E' l'Ikawaii. E' l'Ikawaii. Aspetta ma non è che non hai. Forse. Siamo un po' speciali. No perché esiste in spagnolo. Per quello l'ho detto. Però noi. Normalmente è Ivale. Ivale. Eh. Ivale. Siamo speciali. Siamo speciali. E' uno speciali anche questo video speciali. Sì. Speciali. Sì. Sì. Speciali. Era Ivale. Mi piaceva di più che fosse un punto esclamativo. che fosse un punto esclamativo. E' quello che pensavo a questo. Ma effettivamente esiste la I? Esiste. Vabbè. Ce ne siamo dimenticati. Eh vabbè. Ma è bello che io odi. T'ho la colata che mi viene dietro. Poi. Thomas. Sottu. Thomas Sottu. 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 Stefano Rossi. Stefano Rossi. Finalmente un nick facile. Esatto. Poi. Ecco. Ecco. E' quello che ho detto. Ah. Dici. Iluvor. Mi. Z. 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 Iluvor. Mi. Z. 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 Simone Sabi Dussi. Peter Ippolito. Peter Ippolito. Cri ASMR. Cri ASMR. Bad girl. Wow. Bad girl. I'm the... Come I'm going to start right there? Shards of the... I'm the shadow of the... Booty Booty. Abby Abby. Abby Abby. Roberto Romita. Roberto Romita. O Romita. O Romita. Non lo sappiamo. Marion Bijoux. Marion Bijoux. Gaia Piscaglia Francesco Macchi Gabriella Franco Viola Mojito Acibu Lulu L5x Ti ho sempre un telefono? Yakivi Yakive Non si sa Non ci diceva il nome Ah ecco Yakive Alessandra Sottero Delmiastory ASMR Story Ludovica Siri Ludovica Siri Martina Ancius Martina Ancius Stefano 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 Ti prego se si chiama così davvero un G P.A.S.M.R. 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 Pamela Demetz Pamela Demetz Ci sta divorando ma a noi non importa Noi non così Ginevra Ginevra Per la Candida Curioso Ginevra Per la Candida Curioso Wow Belli Smile No Smiley 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 97 Magnet The best of stitch Spazio Underscore The best of stitch Spazio Underscore Cos'è quella cosa? Una macchina sul tuo schermo? No C'era una cosa strana vicino al nì È un Underscore Underscore Rebecca Cottini Rebecca Cottini Naomi Tomlinson Veronica Comandini Lady Kill 3R90 Lady Kill Forse Killer Lady Killer 90 Agnese Potta Agnese Potta Emanuele Celestino Pisani Danza Life Fabrizio Gaido Gaido Alessandro Ferrari Andrea Costa Andrea Costa Chiara Governatori Aspetta Cioè voglio nominarmi con il mio link di Instagram Ah ok Di Instagram Obscure Cheira Obscure Come si dice Obscure? Obscure Cheira Obscure Ok D'Art Pax D'Art Pax D'Art Pax D'Angredi Carocci D'Angredi Carocci Ilaria Zubo Ilaria Zubo Lorenza Liccia Lorenza Liccia E questo abbiamo si detto Gianmarco Prosperi Gianmarco Prosperi Giù se l'abbiamo si detto Maria Versa Maria Versa Sembra una cosa? Sì Lomo J Nicole Clash Riso Xoul Lorenza No abbiamo si detto Giovanni Tessari Giovanni Tessari Nicolpi Nicolpi Gabriele Bebbi Gabriele Bebbi Ehi Bebbi Ehi Bebbi Carmen Lolita Carmen Lolita Lele Nishi Lele Nishi Sembra 10 Nishi Ninja Cosplay Ninja Cosplay Cosplay Andrew Andrew Un punto esclamativo Perché ha deciso? È convinto di essere Andrew Anna Bottai Anna Bottai Esi 03 Esi 03 Rasta Relax Rasta Relax Rasta Relax Antimo D'Antonio Antimo D'Antonio Arianna Spalazzi Arianna Spalazzi Arianna Spalazzi Armi Girl Armi Girl Francio Underscore 89 Francio Underscore 89 Joe Joe Mac Perché avevo letto Meg l'altra volta Ok? Joe Mac È l'ultimo Tale di Tale di Grazie Grazie per aver visto questo video Spero che vi sia piaciuto I commenti sono sempre di più Sono sempre più numerosi Quindi siamo andati un po' più veloci Però Spero che sia stato rilassante Avremo sbagliato tutte le pronunce Non ci saranno dei tagli credo Probabile Comunque Buon relax Buonanotte Buonanotte Ciao creatura Ciao creatura